Quelli che scappano dalla Siria sono una cosa, ci sono molte persone che sono migranti economici e qua finiscono nelle maglie della criminalità organizzata perché non può esistere un tessuto sociale che riesce a assorbire tutta questa gente perché noi non è vero che abbiamo bisogno di tutta questa mano d'opera a differenza ad esempio della Germania che di immigrati è riuscita a assorbirne molto di più ma perché aveva bisogno di un certo tipo di mano d'opera che qua non abbiamo bisogno, non ce la facciamo e finché mandiamo il messaggio che le porte sono aperte a tutti non facciamo né un favore a noi ma neanche alla gente che arriva e alla fine noi riusciamo a aiutare quelli che realmente dovremmo aiutare perché non ci arriviamo